Benvenuti, veramente due parole, a cominciare da una constatazione, e cioè che l'economia italiana sta crescendo, se guardiamo indietro di 12 mesi la situazione è radicalmente diversa, ma nonostante ciò bisogna continuare nell'azione di politica economica per sostenerla, per renderla robusta, per trasformare una ripresa che in parte è ancora ciclica in una ripresa strutturale. Quindi da questo punto di vista è un fatto che il piano di sviluppo di cassa arrivi quanto mai al momento opportuno, perché è uno strumento di politica economica che si integra con le altre misure prese del governo e inoltre ha il pregio di collocarsi esattamente a cavallo di quello che serve per la tutela del risparmio, la gestione del risparmio di tantissimi risparmiatori italiani e lo stimolo diretto e indiretto agli investimenti privati e agli investimenti pubblici. Detta così sembra una banalità, non ho la presunzione di entrare nel merito, lo faranno Claudio Costamagna e Fabio Gallia molto meglio di me, anche perché dietro queste affermazioni abbastanza banali che vi ho appena proposto c'è una strategia molto complessa, articolata, ricca che appunto andrà descritta. Questo si tradurrà, si traduce in numeri importantissimi in termini di sostegno all'economia, si traduce però al di là di questi numeri in una strategia importante, essenziale dell'Italia in termini di politica economica. Se mi è consentito farlo, rivendico all'Italia di aver portato per primi in Europa l'idea che ci debba essere un ruolo attivo delle banche di promozione nazionale, di cui Cassa Depositi è il nostro esempio, come approccio moderno, forward looking se posso dirlo, di cosa lo Stato può fare in un'economia di mercato che è ancora debole, ancora un po' stordita dalle conseguenze della crisi finanziaria. Quindi un ruolo strategico fondamentale che, ho finito, si integra con il resto della strategia economica del Governo che passa attraverso una politica di bilancio che guarda l'abbattimento delle tasse, una politica di sostegno agli investimenti privati attraverso la iniziativa di finanza per la crescita che integramente interagisce con quello che fa Cassa e naturalmente con le riforme strutturali che rendono l'ambiente per gli investimenti più idoneo e più interessante. Mi fermo qui e ringrazio il Presidente, l'amministratore delegato e anche il Consiglio per il lavoro che hanno fatto fin qui e auguro di nuovo buon lavoro, già che ci sono anche buone feste a tutti voi.